Invece che il bollino Cichita, qui si mette il bollino Zechila, ma la cosa grave qual è? Che lui, guardiamo anche per esempio quando fate, cioè finché si scherza va bene, siamo tutti quanti a ridere e scherzare, ma avere delle foto con personaggi dove tu fai intendere di aver avuto delle storie e in realtà non ce le hai avute, io credo che questo sia un grandissimo scivolone, proprio un grandissimo scivolone, proprio in quella piscina, quel giorno purtroppo non so che cosa vi siete presi, ma avete detto una serie di cavolate, una peggio dell'altra. Posso parlare, Alfonso? Ecco, parla quello che vuoi. Ok, allora, io questa sera risulterò inelegante, però io sono una persona sincera. Ah sì? Sono pronto a giurare, fammi parlare, sono pronto a giurare sulla testa di mio nipote, Francesco, che a 13 anni io non lo dovessi vedere domani mattina, fammi parlare, siediti. Ma che cosa dici? Sono pronto a giurare sulla testa di mio nipote che ha 13 anni perché io non posso passare come una persona bugiarda.